La Fiat 500 è nata qui a Torino il 4 luglio del 1957, 62 anni fa, un compleanno quindi molto importante che abbiamo deciso di festeggiare in famiglia e come si fa in tutte le famiglie italiane, si invitano parenti ed amici per brindare insieme e questa sera noi abbiamo invitato qui 100 colleghi di Fiat, la nostra famiglia, ognuno con la sua 500 e tutti insieme, proprio qui sul tetto dell'ingotto, e questo immortaleremo questo momento con una foto dall'alto, con una splendida scritta buon compleanno 500 e sono sicuro che questa foto rimarrà nei nostri cuori per molto tempo. Il tetto dell'ingotto per noi è un posto davvero molto iconico, la 500 usciva dagli stabilimenti di Mirafiori e poi veniva qui sul tetto dell'ingotto per essere testata, questa è la famosa pista della curva parabolica, quella con la splendida vista sul Po e sulla collina torinese, ci sembrava davvero il posto giusto per festeggiare questo bel compleanno. 500 è la vettura più amata dagli italiani ma anche una vettura molto amata in Europa e quest'anno nei primi sei mesi dell'anno ancora una volta record, record di quota fuori dall'Italia, 500 si vende all'80% fuori dall'Italia, mi sembra che tutto questo dimostri davvero l'affetto della gente per questa nostra azione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!